Un esercito tanto silenzioso quanto prezioso, quello dei volontari nel nostro paese. Sono tantissimi, sono ormai 7 milioni, continuano ad aumentare e fanno fronte a tutte le emergenze possibili, da quelle sanitarie a quelle legate alla povertà. Dedicarsi agli altri, aiutare chi è in difficoltà. I volontari sono una risorsa imprescindibile. Ogni giorno sono protagonisti di piccole e grandi azioni per chi soffre. Sono circa 7 milioni le persone che in Italia offrono il loro contributo volontariamente. Un valore prezioso, inestimabile. Con queste parole il presidente Mattarella ha voluto ricordare il loro impegno nella giornata internazionale del volontariato. La stessa gratitudine è espressa da Papa Francesco. Siete una forza dirompente che consente di uscire dagli schemi per realizzare qualcosa, ha detto. Proprio quella forza interiore che ha toccato il cuore di questo giovane volontario, nato a Ischia ma che vive a Roma per frequentare l'università. Quando l'alluvione ha colpito l'isola è corso a Casa Micciola per aiutare. Arriva il momento in cui si è chiamati alle armi e in questo momento questa generazione ha dimostrato che quando c'è la necessità e quando c'è l'esigenza, insieme uniti nessuno può fermarci. Ci sono tanti modi per fare volontariato, tutti importanti, come l'impegno di questa giovane che per conto di un'associazione sportiva organizza delle camminate nei parchi della capitale per anziani. Molte persone della terza età hanno ancora bisogno di un accompagnamento domiciliare, di avere anche semplicemente della compagnia, dello stare insieme. Ogni giorno siamo impegnati accanto ai più fragili, ai bambini, alle persone anziane per contrastare ogni disuguaglianza per costruire coesione e inclusione. E se negli ultimi tre anni il volontariato si è occupato soprattutto dell'emergenza sanitaria legata al covid, lasciando inevitabilmente indietro aspetti importanti di cui si occupavano piccole realtà no profit che sono sparite. L'emergenza ha fatto aumentare le persone che aiutano in modo spontaneo e attraverso la rete. Un'onda emotiva che ha toccato il cuore anche di molti giovani che si sono dati da fare. È questa la ricchezza del volontariato che ci rende orgogliosi e che ci fa ben sperare per il futuro.